ecco abbiamo visto tutti noi l'uragano sandi cosa ha fatto a new york e in altre località però analizziamo pure un possibile motivo di questo che sembra un castigo divino e questo motivo può essere halloween questa festa che è una festa satanica che i new york si festeggiano con tanto fasto il risultato qual è che il signor ci abbandona ai nostri vizi al nostro ateismo se non anche ateismo è inutile che scappiamo perché per questo ci vuole la preghiera la preghiera ecco che cosa è successo nel quartiere queen alla zona brazi point di new york rimasta intatta la madonna una cinquantina di casa rasa solo dalla tempesta la madonna questa ci vuole dare un segno e avviciniamoci a dio la madonna ci indica dio ci indica gesù suo figlio e lui la soluzione di tutti i nostri problemi e non solo spirituali ma anche fisici mondiali e la festa di halloween non ci avvicina a dio ci allontana se pensate a tutto quello che succede con sacrifici di gatti neri sacrifici umani di bambini che spariscono soprattutto in america ritorniamo alla festa di ogni santi ritorniamo soprattutto addio figlio